Che cosa facciamo adesso? Everi, dobbiamo evitare che l'editore di papà parli con lui del blog di Stan. Se no, mamma e papà scopriranno il suo segreto. Anche tu nascondi la merenda nel cappuccio. I cappucci non servono più solo a coprire la testa. Aggiornati, Everi. Aspetta, forse esiste un modo per evitare che papà veda il blog che ha mandato al suo editore. No, temo che rovinerebbe il loro rapporto e non possiamo assolutamente farlo. Ho sentito che vostro padre diceva che l'editore è pedante e fastidioso e che vorrebbe trovarne un altro. Allora possiamo provarci, forse. Stan, tu sai cos'è un agente, vero? Vuoi dire la persona che trova lavoro agli scrittori in cambio di una percentuale dei soldi che lo scrittore guadagna scrivendo? Oppure quello che agisce agevolmente sull'agente? Il primo dei due. Allora no, non ho idea di chi sia. Pronto? Lei è Barry Bums, l'editore di libri? Sì, con chi parlo? E come fa ad avere il mio numero diretto? Il mio assistente è... Marcus, prendi il tuo file personale e metteci sopra un'altra faccina col broncio. Io sono l'agente di Bennett James, Stan. Stan, agente, edito tutto io. È il cognome più finto che abbia mai sentito in vita mia. Non conosce mio cugino, Tito, tutto ritinto. Prima si chiamava Tinta Unita, ma poi si è ritinto e adesso è a striscia po' che sciocco. E il fatto è che Bennett non ha più intenzione di lavorare con lei e quindi non deve parlargli mai più del libro. Però può parlarne con me. Perché l'ha trovato così innovativo e diverso? Stan! Concentrati! Cosa era? Due persone che ho assunto qui in ufficio per ricordarmi di concentrarmi. Marcus! Bisogna assumere due persone che mi ricordino di concentrarmi! Ne parlerò direttamente con Bennett. Io non sapevo che avessi un agente. Che ne so io se lei è davvero il suo agente. Potrebbe essere un pazzo qualsiasi. Per favore, se fossi un pazzo qualsiasi mi chiamerei Piripillo. Stan! Concentrati! Wow, tosti quei due. Se non sono il suo agente, allora come faccio a sapere che all'ultimo pranzo lei ha ordinato il pollo alla cacciatura e gliel'ha sputato addosso alla camicia? Me lo spiega? Bennett mi ha detto quanto lei sia volgare e disgustoso. Non la vuole più! Ha detto questo? Oh, che cosa insolente. È offensiva. E poi mi fa entrare in crisi con me stesso e mi fa piacere. Può dire a... Può dire a Bennett che tra noi è finita, allora. Come questa telefonata. Ho un appuntamento importante dall'oculista. Dall'oculista o dal dentista, visto che sputa quando mangia? Non mi richiami mai più! Sei stato fenomenale! Ci sei riuscito! Sei veramente il mago degli scherzi telefonici. Oh, chiamami ad Halloween, fingendoti il conte Dracula. Me ne sarò dimenticato per quell'epoca. Ciao, Chloe! Aspetta, ma che cos'ha in bocca Susie? Il suo ciuccio, perché? Non è vero, quella è una chiavetta. Sì, infatti Susie non è una bambina vera. Si chiama immaginazione. Aspetta. Stan, questa è la chiavetta con il tuo blog. Vieni a vedere. E quindi papà non l'ha data al suo editore. L'abbiamo fatto licenziare per niente. Però abbiamo fatto assumere due persone per ricordare a Barry di concentrarsi. Abbiamo creato posti di lavoro. Dog with a blog a Disney Channel.